L'ultima fuga di Vallanzasca, non dal carcere ma dalla cooperativa Ecolab di Milano, dove ha trascorso la sua prima giornata lavorativa in semilibertà, fuori dalla casa circondariale di Bollate. Il bel René ci ha fregato tutti. Ha convocato i giornalisti in una stanza della cooperativa, con la promessa di una dichiarazione spontanea. E mentre tutti abboccavano, lui è evaso da una porta secondaria. Il presidente della cooperativa, Massimo D'Angelo, complice di Vallanzasca nella sua ultima fuga, spiega come è maturato il piano. L'idea è, visto che comunque abbiamo avuto tutta una serie di problemi oggi per lavorare, sono state rubate delle foto, non è che ci è piaciuto più di tanto, allora abbiamo pensato che uno scherzo valeva la pena per chiudere la giornata con una risata. Cioè è stata una cosa comune, ognuno di noi ha pensato come si poteva uscire dalla cooperativa assediata e abbiamo pensato questo. Ma veramente ci siamo messi a ridere, perché una proposta era mettere Vallanzasca in una scatola e farlo camminare fino ad una macchina. Quindi, nel senso che è stata molto una cosa umoristica e simpatica tra un gruppo di persone che molte di loro hanno carcerazione alle spalle. E così il bel René se ne è andato in auto con un collega e ha potuto rientrare nel carcere di Bollate senza ulteriori fastidi.